L'attacco alla cioccolateria di Sydney è una ferita ancora aperta per l'Australia. Un assedio costato la vita a due delle 18 persone tenute in ostaggio per ore da un uomo che diceva di agire per conto di un presunto stato islamico. Il governo adotterà misure più severe in tema di immigrazione, libertà condizionata e possesso di armi dopo la pubblicazione della relazione sull'attentato di dicembre. Questo mostro non doveva essere nella nostra comunità, ha detto il premier. Non doveva essergli consentito di entrare nel paese, non doveva avere una pistola e diventare un estremista. L'attentatore ucciso dalla polizia si chiamava Man Haron Monis. Iraniano, aveva ottenuto asilo politico in Australia. Era libero su cauzione dopo una condanna per complicità nell'assassinio della ex moglie. Nella relazione si dice che l'uomo era già nel mirino dell'antiterrorismo, ma in virtù del quadro legislativo nulla di più poteva essere fatto per prevenire l'attacco.